sono bellini a me piacciono da morire anche se sono di allevamento ovviamente però mi piacciono il mondo dei funghi mi ha sempre affascinato oggi vado a fare una cosa che secondo me buonissima il risotto con i funghi non risotto iper prezioso con funghi iper costosi ma con i funghi che si poi il sapore questo preambolo è finito andiamo a iniziare la ricetta che onestamente anche abbastanza semplice metto un pochino d'olio in una padella facendo il fuoco e ora si vanno a rosolare i funghi partendo proprio da questi quando c'è il gambo grosso in questo caso qui tagliate nella parte e questo gambo lo fate a pezzettini e lo mettete dentro oppure potete fare anche un'altra cosa anzi la farò io levo direttamente il gambo questo qui e lo metto insieme agli altri pezzettini di fungo secco che ho già messo nel brodo un semplice brodo vegetale l'olio si sta scaldando piano piano ci mettono spicchio d'aglio tutti gli ingredienti di questa ricetta elencati in modo preciso e puntuale le trovate su casa pappagallo quindi basta che digitate casa pappagallo.it e trovate tutto l'elenco degli ingredienti allora intanto guardate l'olio è già caldo e si vede dalle bollicine che ci sono intorno le bollicine che ci sono intorno all'aglio andiamo a mettere subito i funghetti mi raccomando lo dico ora poi ve lo ridirò anche dopo non assolutamente in questa fase non mettete il sale altrimenti il rischio è che l'effetto diventino quasi lessi allora champignon se sono di queste dimensioni qui le tagliate in quattro così e le aggiungete funghi secchi in questo caso sono porcini secchi ci vuole normalmente una mezz'oretta di metterli a bagno in acqua tiepida mi raccomando fatelo e mi raccomando non buttate via l'acqua perché poi alla fine il concentrato del sapore è tutta lì allora vi faccio vedere una cosa guardate quando comincia sul fondo della padella attaccarsi leggermente un po i funghi e il fungo comincia a prendere questa colorazione che va verso il beige è il momento in cui si va a sfumare due possibilità semplici aggiungete un pochino di vino oppure un pochino di brodo vegetale se non volete mettere il vino mettete un pochino di brodo vegetale però è importante deglassare bene il fondo così permettere anche di cucinare bene i funghi io in questo caso uso il vino che non amo particolarmente fare sfumare però in questo caso qui secondo me ci sta bene non ne serve tanto da questo momento quindi avete visto sono circa tre minuti che ho fatto rosolare sono attaccati leggermente sul fondo sfumate con il vino fate andare via la parte alcolica e come si fa a sapere quando andata via annusate annusate sentite piano piano proprio la parte alcolica comincia a evaporare completamente una volta evaporato calcolate altri tre minuti quattro minuti al massimo di cottura dipende sempre ovviamente dalle dimensioni in cui avete tagliato i funghi io siccome l'ho tagliato e l'ho lasciato un po più grossetti ci metterò circa quattro minuti allora riepilogo brodo vegetale con i pezzettini di funghi e qualche fungo secco sta cuocendo ed è pronto e possa anche spengere il fuoco i funghi secchi ormai si sono ripresi completamente questi funghetti un altro pochino devono cuocere si può iniziare a cuocere il riso prendo la casserola dove farà il risotto questo intanto lo sposto il riso lo faccio con il burro però scegliete voi se voi volete farlo con l'olio va benissimo io i funghi li ho fatti con l'olio quindi metto una bella noce di burro quando il fondo della casserola è ben coperto dal burro anche se c'è rimasto un po di burro che deve sciogliersi si aggiunge il riso varietà di riso tranquillamente in questo caso il carnaroli potete usare questo il vialone nano il roma scegliete l'arborio scegliete il riso che vi piace di più in questo caso io sto usando il carnaroli e ora si fa tostare una volta che il riso è diventato traslucico quindi ha ben tostato i tempi perché spesso le persone mi chiedono sempre i tempi un paio di minuti al massimo si prende il brodo e si comincia a far cuocere un dito sopra il riso ora così se i tempi si determinano su quello che avete fatto un dito sopra il riso ora aspetto che questo liquido tenda a evaporarsi e poi comincerò ad aggiungere i funghi quindi ora ci vorrà almeno 3 4 minuti vedete questo momento su cui sono tutte queste bollicine il liquido è quasi completamente evaporato ma non fatele evaporare completamente deve essere in queste condizioni si prosegue una cosa che non ho fatto prima ma non succede niente se si fa ora verso il liquido del dei funghi dentro il brodo mi raccomando utilizzate un filtro perché ci potrebbe essere un po di terra e ora questi funghi le vado a mettere nel risotto e anche gli altri funghi tolgo lo spicchio d'aglio fatelo anche voi e le verso tutti nel riso non ho messo per niente il sale un pochino di sale ora si mette non tanto ma un pochino ora si mette poi si finirà alla fine e ora si aggiunge il brodo corretto ai porcini e come prima si copre il profumo è davvero una cosa incredibile mi raccomando una cosa importante quando vedete che il liquido è completamente evaporato aggiungetelo sempre 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 un pochino deve essere sempre morbido il risotto ci siamo è pronto e brucia tolgo dal fuoco una cosa che veramente fatela perché è importante ora assaggiate brucia buono non serve altro sale ora si fa mantecare con il burro due pezzi burro freddo assolutamente fuori dal fuoco e simanteca assolutamente fuori dal fuoco è una meraviglia il profumo che arriva è una cosa straordinaria straordinaria davvero che cremosità incredibile praticamente siamo pronti per impiattare ma se volete se volete metteteci un pochino di prezzemolo sopra io non lo metterai direttamente nella pentola ma direttamente sul piatto e questo davvero non è una cosa obbligatoria però sono quelle cose che ci stanno bene cromaticamente perché spezzano un po un colore abbastanza uniforme ma ci stanno bene danno anche quella puntina di freschezza che è gradevole e nel frattempo si fa passare quel paio di minuti che più si lascia il risotto un attimino a riposare e ancora diventa ancora più buono una gelata di pepe un pochino di prezzemolo secondo me è un gran bel piatto stavo per leccarmi la mano perché c'era un chicco di riso lo faccio dopo seriamente è veramente un risotto straordinario ma davvero è semplice non ci vuole niente di particolare per farlo ma il profumo è incredibile è davvero 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 buono alla prossima